Grazie a tutti. Grazie a tutti. Toccare bene com'è questa chiave, ma attenzione, tirarla fuori solo se la chiave è uguale alla mia. Se è una chiave più grande, più piccola, con una forma diversa, no. Il bambino che pensa di aver trovato la chiave con la stessa forma non dice agli altri che sono pillati. Ma prima cosa la saranno lasciando che i genitori riservate la nostra scala, arrendatemi bene.